Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Avellino e l'Irpini hanno perso uno dei suoi figli migliori. Chi lo aveva come amico perde anche le parole e qualche pezzo di sé che se ne va insieme a Saverio Festa. Ci sarà modo, occasioni per ricordarne la statura intellettuale, la sterminata cultura, l'originalità delle riflessioni su Dorso, Gobetti, il fascismo, i filosofi tedeschi, il borgo dei filosofi, l'osservatorio Gaetano Vardaro. Avremo modo. Oggi prevale altro di fronte alla notizia inattesa e inaspettata, il dolore antico, intimo, essenziale che sovrasta e prevale su ogni altra considerazione. Questo accade quando le persone diventano care. Saverio Festa lo è stato, come sanno bene i suoi studenti dell'università. Lo hanno avuto così caro, fin quasi a sentire il dovere, in qualche modo, di accudirlo anche. È stato molto amato dai suoi studenti, ai quali non trasmetteva la generica, spesso noiosa, cultura accademica, ma la curiosità del sapere, l'ansia della conoscenza, il punto di vista nascosto. È stato un campione antiretorico della cultura accademica e della cultura politica. Eppur condividendo il valore, il sistema valoriale della sinistra, le sue riflessioni, i suoi studi, i suoi saggi, i suoi libri, non venivano e non risultavano appesantiti da scorie, ma guardavano e puntavano sempre in avanti, verso il futuro. Questo gli veniva dal fatto di essere una persona mite, mitezza, che in questi tempi feroci dà anche l'idea di persone indifese. Invece no, Saverio è stata una di quelle persone, come per altri scrisse Barbara Spinelli, la cui mitezza si faceva forte di una luce che non si sa bene da dove venisse, quella luce capace di cercare negli altri il modo per stare meglio e bene al mondo. Più sei mite, più sei vicino al cielo, ha scritto Lutero. Immagino che Saverio stia da quelle parti.